Cercasi vittoria disperatamente. In casa Virtus i tre punti sono diventati ultimamente merce rara con l'ennesimo pareggio che ha rappresentato ancora un'occasione sprecata per tornare a correre. Il lanciano non sa più vincere. Il decimo segno X della stagione apre infatti interrogativi sull'incisività di una squadra che è tanto brava a costruire azioni da rete quanto incapace di concretizzare la mole di gioco creata. Così come era accaduto a Pescara tanto per non tornare troppo indietro nel tempo anche al biondi col trapani. I ragazzi di Roberto D'Aversa hanno mancato il colpo del KO dilapidando occasioni in serie dinanzi al portiere siciliano. Quello di Rossoneri sta diventando il campionato delle occasioni mancate. Per quanto fatto vedere in campo i frentani meriterebbero una classifica migliore ma questo non può essere un alibi per una squadra che fino ad oggi ha vinto solo in cinque occasioni totalizzando un numero record di pareggi come nessuna delle 22 formazioni cadette. È vero che la Virtus è stata sconfitta in sole due circostanze ma è altrettanto vero che i pareggi servono a poco per fare un bel salto avanti in classifica. Ora bisognerà cercare di capire perché i Rossoneri oggi hanno così tante difficoltà ad incamerare i tre punti. Questione mentale, tenuta fisica, scarsa concentrazione nelle fasi salienti delle gare? Tutte le ipotesi sono valide con una certezza. Il Lanciano di oggi rischia di diventare un'incompiuta. Bello a vedersi ma poco cinico e se nel calcio non la butti dentro allora tutto rischia di diventare più difficile. Sia chiaro, la stagione dei Rossoneri resta fino ad oggi più che positiva. Il bicchiere è mezzo pieno ma con una classifica molto corta sia in testa che in coda, se non si tornerà a vincere al più presto si correrà il rischio di scivolare verso l'anonimato. Senza voler riproporre antipatici paragoni con la squadra di Baroni si deve però riconoscere che quella dell'anno scorso era una formazione più quadrata, una Virtus che concedeva poco agli avversari. Oggi invece i numeri dicono che la difesa ha già subito 20 reti, troppe forze per un 11 che aveva fatto dell'impenetrabilità, la sua vera forza. In tal senso il Lanciano fra le squadre che occupano le prime otto posizioni di classifica è quella che ha subito più reti. Che sia arrivato il momento per rivedere in campo allora Menta? Probabilmente sì anche se l'ultima parola spetterà mister Roberto D'Aversa alla vigilia di una gara delicata in casa di quella ternana capace nell'ultimo turno di fare bottino pieno in casa della vice capolista Frosinone.